Come è un commissario? Con cui recedo dagli impegni presi il 14 agosto perché il Presidente del Consiglio ha tradito la città di Napoli, ha violato quel patto e di fronte a chi tradisce accordi scritti e ricopre ruoli istituzionali non si può più mantenere nessun patto a proposito di patti. Quindi oggi è una giornata importante perché Napoli rivendica la sua autonomia, la difesa della Costituzione, la difesa del suo territorio, dice no all'espropriazione della città, no ai commissariamenti, no a fare entrare dalla finestra chi abbiamo fatto uscire dalla porta perché soggetti ritenuti inquinanti è l'area di Bagnolo. Una partita politica altissima che combatteremo con tutti i mezzi giuridici, con tutta la passione politica e democratica che sappiamo mettere in campo.